Aguzzi allora un'importante opera pubblica sta per prendere atto qui nel suo comune a vantaggi tutta la collettività. Sì indubbiamente una delle opere più importanti che verranno realizzate in questa in questa legislatura in questi cinque anni ed era uno degli impegni prioritari che ci eravamo presi. Perché questo? Perché l'intervento su questa scuola la scuola Dezzi qui di Saltara di ristrutturazione e di verifica quindi anche di sicurezza di antisismicità è importante perché qui verrà appunto riportata la scuola elementare che è stata sgomberata dopo il terremoto di un anno e mezzo fa. Ma la doppia valenza e quindi ancor più l'importanza dell'investimento e dell'intervento è dato dal fatto che questa scuola quando è stata sgomberata le cinque alue sono state portate in una sede comunale a Calcinelli, la sede della delegazione comunale. All'interno di quella sede dovrà essere invece collocato il nuovo comune cioè la macchina organizzativa comunale del comune di Colli al Metauro. Quando questa scuola è stata sgomberata ancora Colli al Metauro non esisteva quindi si è posto un problema che era quello della scuola ma non il problema della sede del comune. Oggi le due cose si sommano quindi con questo intervento che oggi finalmente abbiamo certezza di poter realizzare con il finanziamento che ci è stato riconosciuto da parte della regione Marche di 997 mila euro. Quindi noi ristruttureremo questa scuola, riporteremo qui la scuola dalla sede di Calcinelli e nella sede di Calcinelli interverremo con una progettualità ed un intervento di adeguamento di quegli spazi per la nuova sede del comune di Colli al Metauro. Tempi di realizzazione di questo progetto? Intanto voglio anche ringraziare per la collaborazione il consiglio regionale Federico Talè che mi ha seguito tutte le pratiche in regione, mi ha fatto avere un incontro anche con il presidente Ciricioli al quale abbiamo spiegato questa importanza di queste motivazioni che ripeto ci sono sommate e oggi abbiamo questo felice pillogo grazie anche a questa collaborazione. I tempi saranno più o meno questi. La regione ci dice che entro 18 mesi dobbiamo appaltare i lavori, non realizzare ma appaltarli perché sappiamo quante siano le burocrazia da superare. Noi intendiamo però accelerare quei tempi e l'obiettivo nostro è appaltare i lavori entro quest'anno e realizzarli entro il prossimo anno. Come avevamo speso parole anche nei mesi addietro, grossomodo a metà legislatura vorremmo aver riattivato qui la scuola e intervenire di conseguenza poi nella sede comunale di calcinelli.